3 milioni, finché i 7 milioni di palestinesi ancora saranno in esilio, noi non ci stancheremo mai di lottare per questa causa! Anche una cosa, che le piazze di tutta Italia e soprattutto quella di Milano non ha smesso di protestare dagli anni 90, 80, 70 per la Palestina e sono generazioni! Fate passare l'ambulanza? Non facciamo i sionisti? Sono generazioni, generazioni che questa battaglia fa avanti e se questo e se la mia generazione non libererà la Palestina allora saranno questi bambini che vedete nelle piazze, un giorno prenderanno questi microfoni e lotteranno ancora per questa causa fino a vedere una Palestina libera! Allora uniamo le voci ancora una volta, ogni voce moltiplicata per due, almeno per questi cori, se dovete bere, vedete adesso, prendete un respiro, voce moltiplicata per due e tutti insieme diciamo... Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! e chi altro? Nablus vincerà! Nablus vincerà! Nablus vincerà! E chi altro abbiamo? La mia città! Ebron! Halim! Ebron vincerà! Ebron vincerà! E chi altro ancora? Tutta la Palestina! Tutta la Palestina! dal fiume al mare! E lo diciamo sempre! Da Haifa al-Lokab! Da Gaza a Gerusalemme! Tutta la Palestina! La Palestina vincerà! E festeggeremo! E festeggeremo! Nella nostra capitale! Da dove è iniziata questa manifestazione! Festeggeremo a Gerusalemme! E quel giorno, come quella promessa che feci ad ottobre, me la ricordo ancora, dissi, quando la Palestina sarà libera, vi inviterò tutti a mangiare a casa mia un bel piatto di lube, perché è così che il palestinese festeggia, condividendo quello che ha, condividendo quello che ha, e quello che ama, e un giorno lo faremo, condivideremo le nostre case, con chi ha lottato a fianco a noi, per tutto questo tempo! E allora tutti insieme le ricordiamo a Milano! Siamo tutti! Siamo tutti! Palestinesi! Perché è palestinese, eh? Non di sangue, ma che ha lottato per 76 anni dalla nascita, per questa causa. Siete fieri di essere palestinesi! Siamo tutti! Siamo tutti prodotti, e prima di concludere...